Eppurazioni in corso da parte di Vladimir Putin. L'ex comandante separatista russo nel Donbass, Igor Gyrkin, è stato condannato alla detenzione preventiva da un tribunale di Mosca con l'accusa di estremismo. Rimarrà in carcere almeno fino al 18 settembre. Conosciuto con lo pseudonimo Strelkov, Gyrkin è stato un sostenitore della guerra della Russia in Ucraina, prima di criticarne in seguito la condotta attraverso una serie di commenti sul suo canale Telegram. Gyrkin ebbe un ruolo chiave anche nell'annessione russa della Crimea nel 2014.